e arriva vicino ai principi dell'unità della forma, secondo la quale l'anima razionale è la forma intera della persona. Dante, quindi, può immaginare questo che gli interessa, che non appena l'anima separata, questa anima separata potentissima, arriva nell'aldilà, contiene la virtù formativa e irraggia intorno a sé nella stessa maniera in cui aveva irraggiato nell'embrione e crea un corpo d'aria fondato non solo di un'apparenza, ma anche di tutti i sensi, ciò che Dante chiama ciascun sentire, dal più semplice alla vista. Quindi questa è la conclusione di questa estenuante discussione embriologica. L'anima si crea un corpo d'aria che le permette di avere un'apparenza paruta e tutti i sensi, però che quindi apposcia a sua paruta, quindi grazie al corpo aereo, è chiamata ombra e quindi organa poi ciascun sentire infino alla veduta, è tutti i sensi, dal più semplice alla vista. Quindi parliamo e quindi ridiamo noi, quindi facciamo le lacrime e i sospiri che per lo monte aver sentito fuoi, puoi. Come ho menzionato poco fa, l'unione dell'anima e del suo corpo aereo forma ciò che Dante chiama ombra, che è quindi dotata di un'apparenza e può continuare a esprimere tutte le facoltà sensoriali. E quindi questa è la ragione per cui l'anima può continuare a sentire il dolore fisico non appena giunge in inferno o in purgatorio. Quindi viene risposta la domanda iniziale che Dante aveva posto e che aveva dato origine a tutta questa lunga spiegazione. Il corpo aereo creato dall'anima secondo il paradigma dell'unità della forma può essere quindi preso come il simbolo della pienezza dell'esperienza nell'aldilà nel periodo prima della risurrezione finale. Quindi il salto successivo che vi chiedo di fare è quello di collegare la nuova enfasi escatologica nell'aldilà sull'anima separata con il principio dell'unità della forma che caratterizza la fine della dottrina embriologica. Quindi quello che questa dottrina dell'anima rappresentata dal corpo aereo che si può creare nell'aldilà permette a Dante è di pensare un'esperienza nell'aldilà che sia piena non appena l'anima si separa dal corpo. Ritorniamo al fatto che quello che interessa Dante è la pienezza dell'esperienza dell'anima subito dopo la separazione del corpo, subito dopo la morte fisica. Ed effettivamente basta aprire qualsiasi pagina dell'inferno o del purgatorio per rendersi conto della fisicità del dolore provato dalle ombre e in maniera analoga, adesso lentamente arriviamo al paradiso, in maniera analoga la terza cantica indica continuamente che in paradiso le anime godono della visione beatifica e di una felicità perfetta. Quindi l'ume è lassù che visibile face lo creatore a quella creatura che solo in lui vedere ha la sua pace. Questo è lo stesso concetto della bolla papale Benedictus Deus del 1336. L'anima nel paradiso viene dato un lume, quello che i teologi chiamavano lumen glorie, viene dato la capacità di avere la visione intuitiva di Dio. La visione, la visio dei, dà all'anima la felicità perfetta che Dante chiama pace e che consiste nel avere tutti i propri desideri soddisfatti. Il simbolo della felicità dell'anima, il simbolo della felicità dell'anima nel paradiso, il simbolo della sua pace, il fatto che attraverso la visione di Dio tutti i desideri sono appagati, è la luminosità che come sapete caratterizza le anime del paradiso. E volevo leggervi velocemente questo pezzo perché veramente lo adoro, questa è una descrizione molto tecnica del fatto che attraverso il lume in glorie l'anima ha accesso alla visione beatifica e la gloria che prova la beatitudine completa, la pace che prova attraverso la beatitudine completa, la visio dei diventa luce. Una luce che nasconde le fattezze del corpo aereo. Luce divina sopra me s'appunta penetrando per questa in che io mi invento, la cui virtù col mio veder congiunta mi leva sopra me tanto che io veggio la sommessenza della quale monta. Quinci viene l'allegrezza a un defiammeggio perché la vista mia quant'ella è chiara la chiarità della fiamma pareggio. Quindi c'è questa idea di una luminosità che corrisponde alla gloria. Più l'anima è felice, più è luminosa. Quindi il punto che volevo fare è che il paradiso dantesco, anche il paradiso dantesco dunque, è in linea con le trasformazioni escatologiche contemporanee che spostano l'accento sull'esperienza dell'anima. E come abbiamo visto, il simbolo di questa esperienza, di questa escatologia di immortalità, può essere considerato il corpo aereo che l'anima si costruisce nell'aldilà, secondo una concezione che riflette il principio dell'unità della forma. Ok, adesso questo spero che sia chiaro. Unità della forma, enfasi sull'esperienza dell'anima separata, massima felicità nel paradiso, massimo dolore nell'inferno. Adesso vorrei un attimo, se è possibile, complicare ancora un po' di più questo modello e farvi vedere che in realtà le cose non sono così semplici, se lo sembravano. Perché allo stesso tempo il corpo aereo, che abbiamo visto è il simbolo di questa nuova esperienza nell'aldilà, è usato in maniera ambivalente nella commedia, dove viene utilizzato anche per mettere in discussione e complicare il modello dell'unità della forma e l'enfasi escatologica che esso esprime. E adesso questo lo vedremo nella lettura del quattordicesimo canto del paradiso. Ecco, vedremo che il senso che l'anima separata abbia piena esperienza dell'aldilà, coesiste in realtà con l'idea che questa esperienza non è completa e crescerà di intensità con la resurrezione del corpo. Quindi questo è il concetto che guiderà la mia lettura del canto quattordicesimo del paradiso a cui adesso arrivo. Quindi da una parte abbiamo tutta questa costruzione complicatissima dal punto di vista intellettuale, escatologico e spirituale per sostenere che l'esperienza dell'anima è completa subito dopo la separazione dal corpo, perché il modello dell'unità della forma permette all'anima di contenere il corpo e quindi di esprimerlo attraverso l'aria anche nell'aldilà. Dall'altra parte questo complicatissimo modello è complicato da quello che leggeremo adesso nel quattordicesimo canto del paradiso, che invece insiste sull'importanza della resurrezione del corpo come il recupero della materialità del corpo e di un aumento di esperienza che mette in discussione tutto questo modello che abbiamo visto sennò adesso. Non so se lo mette in discussione, ma lo rende sicuramente più interessante. Quindi adesso arriviamo al quattordicesimo canto del paradiso e leggiamolo insieme. Si apre con un'immagine, quella del cerchio, e con una figura retorica, quella del chiasmo, che sono centrali e sono in qualche modo la cifra retorica di tutto il canto. Cerchio e chiasmo. Quindi leggiamo i primi versi, sono dall'1 al 9. Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al centro, un chiasmo classicissimo. Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al centro, muovesi l'acqua in un ritondo vaso, secondo che percosso fuori o dentro. Nell'agnamente, se subito caso, questo che io dico, siccome si tacque la gloriosa vita di Tommaso, per la similitudine che nacque del suo parlare e di quel di Beatrice, a cui cominciare dopo lui piacque. Tommaso d'Aquino, siamo nel cielo degli spiriti sapienti, prima aveva parlato su Buonaventura, poi ha parlato Tommaso, adesso Tommaso tace e incomincia a parlare Beatrice. Infatti nei versi successivi, Beatrice, che come tutte le anime beate ha accesso alla visione beatifica e legge tutto in Dio, anticipa il dubbio di Dante, ancora prima, questo è geniale, Beatrice conosce quello che Dante dubita, prima che ancora Dante formuli il dubbio dentro se stesso. Quindi ancora prima che Dante provi il dubbio, Beatrice lo formula e ripropone il pattern dubbio-risposta che struttura tutta la narrazione del Paradiso. Il Paradiso si muove con Dante che dubita e Beatrice o qualche altro beato che risponde, e si sale così. È lo stesso pattern che viene rimesso in moto in questo momento. In questo caso, il dubbio di Dante, formulato da Beatrice, prima che lui lo provi, riguarda che cosa succederà alla gloria dei beati, rappresentata, come abbiamo visto, dalla luminosità che ne nasconde le fattezze. Quindi Beatrice interpreta il dubbio di Dante e chiede cosa succederà alla gloria dei beati quando ritornerà il corpo risorto e quando le fattezze ritorneranno visibili. E sono i versi successivi, dal 13 al 18. Diteli, se la luce onde si infiora a vostra sostanza, se la luminosità che... Non c'è il... Ah, scusatemi. Diteli, se la luce onde si infiora a vostra sostanza, ed è geniale, infiora, eh, per esprimere un concetto teologico così preciso. Diteli, se la luce onde si infiora a vostra sostanza, rimarrà con voi eternalmente, siccome le ora. E se rimane, dite, come, poiché sarete visibili rifatti, esser porà che al vedere non vi noi. Cosa succederà quando ritornerete visibili perché ritorna il corpo risorto? Come indica Anna Maria Chiaviacci Leonardi nel suo commento, la domanda di Beatrice ha una forte connotazione che potremmo chiamare relazionale, e che per me è molto importante e che riguarda cosa succederà ai beati con la risoluzione del corpo alla fine dei tempi quando potranno ancora vedersi l'uno con l'altro. Adesso i corpi non si vedono perché sono nascosti dalla luce, ritorneranno a essere visibili, poiché sarete visibili rifatti, e quindi ci si chiede che cosa succederà quando con la risoluzione del corpo i beati potranno ancora vedersi l'uno con l'altro e com'è possibile che gli organi corporei possano sostenere la luminosità del paradiso. Il dubbio di Dante, pellegrino, formulato da Beatrice, sposta l'attenzione dall'escatologia di immortalità all'escatologia di risurrezione e richiama la fine del sesto canto dell'inferno in cui, forse lo ricorderete, dopo che Dante aveva sottolineato l'intensità e la fisicità del dolore dei golosi, Dante appunto aveva chiesto a Virgilio che cosa succederà con la risurrezione del corpo quando, cito, ciascuno ripiglierà sua carne e sua figura. Cioè, quello che Beatrice sta chiedendo qua è la stessa domanda che Dante aveva posto a Virgilio nel sesto canto dell'inferno per quanto riguarda i dannati. Cioè, nel sesto canto dell'inferno Dante aveva detto alla fine dei tempi ciascuno ripiglierà sua carne e sua figura. I stessi due concetti ritorneranno ad avere una forma piena e una corporeità piena. E chiede cosa succederà ai dannati? E Virgilio, allora, aveva ricordato la vanità delle ombre, il fatto cioè che le anime sono composte di aria e non di carne e aveva richiamato l'idea di Virgilio Simpato dice ritorna a tua scienza leggiti il tuo Aristotele che te lo spiega chiaramente se avessi letto Aristotele bene non mi faresti una domanda come questa dice torna ad Aristotele e vedrai che la condizione dell'anima separata dal corpo è imperfetta e migliorerà quando si unirà al corpo risorto. Quindi il valore dei dannati sarà più intenso con la risurrezione del corpo alla fine dei tempi. E questa è la citazione. Ritorna a tua sci... Scusatemi, eh. Cioè ecco grazie Ritorna a tua scienza che vuol quanto la cosa è più perfetta più senta il bene e così la dolienza tutto che questa gente maledetta in vera perfezione giamai non va di là più che di qua essere aspetta. dei versi complicatissimi per l'ultima parte però vedete quello che conta è che la cosa è più perfetta più la cosa è perfetta più sente il bene e così il dolore. L'anima separata dal corpo nonostante il suo corpo d'aria potentissimo ma imperfetto sentirà più bene e più dolore una volta che è più perfetta unita al corpo risorto. Ora in paradiso le anime beate solo nell'ascoltare la domanda sulla risurrezione del corpo esprimono una nuova meravigliosa felicità ciò che Dante chiama nuova gioia che prende la forma di danze e di canti meravigliosi cioè le anime sentono parlare della risurrezione del corpo e sono felicissime e se la ballano ancora di più mostrando nuova gioia come da più letizia pinti e tratti alla fiata quei che vanno a rota levan le voce e rallegrano gli atti così all'orazio pronta e divota gli santi cerchi mostrar nuova gioia nel torneare e nella mira rota Beatrice e Dante sono al centro di due cerchi che si muovono luminosamente come danzando per esprimere la gioia che provano al pensiero solamente alla domanda che è stata fatta che per il momento non è ancora stata risposta la domanda sulla risurrezione il poema dà così un'ulteriore indicazione della felicità di cui le anime le anime deate godono in paradiso leggiamo questo passo questo passo quindi le anime hanno mostrato gioia al pensiero che sia stata formulata una domanda sulla risurrezione del corpo e la descrizione della gioia in questo passo Dante vuole ancora indicare la perfezione della felicità delle anime nel paradiso sono felicissime qual si lamenta perché qui si moia per viver colà su non vide e quive lo refrigerio dell'eterna ploia quell'uno e due e tre che sempre vive e regna sempre in tre in due e in uno non circoscritto e tutto circonscrive tre volte era cantato da ciascuno di quegli spiriti con tal melodia che da ogni merto seria giusto mono a questo punto la luce più luminosa del cerchio più piccolo incomincia a parlare con una voce che è importantissimo perché poi cercherò anche di fare un discorso stilistico che Dante definisce modesta ecco si tratta dell'anima di Salomone che nel decimo canto era stato definito la luce più bella e che era stato al centro della discussione di Tommaso nel canto precedente ancora con una insomma sui dettagli che adesso possiamo saltare però parla Salomone in quanto l'anima più sapiente quindi la domanda importantissima che Beatrice è formulata ha risposto da qualcuno che sapeva di cosa si tratta è addirittura l'anima più sapente ricordiamo anche ci ritornerò alla fine che re Salomone a re Salomone erano attribuiti diversi testi biblici i proverbi l'ecclesiaste il libro della sapienza e soprattutto quello che mi interessa il cantico dei cantici Salomone spiega che la luce che circonda le anime beate continuerà per sempre quanto fialunga la festa di paradiso tanto il nostro amore si reggerà dintorno con tal vesta continueremo a essere luminose perché continueremo a godere della visione di Dio da notare è ancora l'idea della luminosità come segno dell'intensità della beatitudine provate dalle anime separate siamo quindi ancora in piena escatologia di immortalità scusatemi la spiegazione che segue sposta però l'enfasi escatologica prima indica che la luminosità è proporzionale al grado di ardore provato dalle anime che è proporzionale al grado di visione beatifica a cui hanno accesso e che a sua volta dipende da una combinazione di merito e di grazia leggiamolo siamo veramente in piena teologia che diventa splendida come la fa Dante ma è anche complessa la sua chiarezza seguita l'ardore quindi la luminosità che circonda l'anima è proporzionale all'ardore che l'anima prova l'ardore è proporzionale alla visione la sua chiarezza seguita l'ardore l'ardore è la visione e quella è tanta quanta di grazia sovra il suo valore e l'intensità della visione è proporzionale alla quantità di merito e di grazia che il lumen glorie che Dio dà all'anima e le permette di avere la visio dei poi Salomone spiega che con la risurrezione della carne e la ricostituzione della persona nella sua interezza la visione beatifica aumenterà rispetto a quella goduta dall'anima separata dal corpo quindi rileggiamolo i primi tre versi e poi ci muoviamo alle scatologie di risurrezione e al fatto che Dante dica le anime sono felicissime sì ma non sono perfettamente felici quando il corpo ritornerà alla fine dei tempi la persona sarà tutta quanta e la gloria aumenterà quindi la sua chiarezza seguita l'ardore l'ardore la visione e quella è tanta quantà di grazia sovra suo valore come la carne gloriosa e santa fiare vestita la nostra persona più gratta fia per essere tutta quanta perché si accrescerà ciò che ne dona di gratuito lume il sommo bene lume che a lui vederne condiziona onde la visione crescer con vene crescer l'ardore che di quella si accende crescer lo raggio che da esso viene e vedete ancora tutti questi chiasmi meravigliosi e questa insistenza sul crescer onde la visione crescer con vene crescer l'ardore che di quella si accende crescer lo raggio che da esso viene quando ritorna la carne gloriosa e santa Dio proprio perché la persona è ormai tutta quanta darà più lume in glorie e aumenterà la visione di Dio e quindi la felicità e quindi la luminosità questi versi sono ancora costruiti in maniera chiastica e circolare e riflettono così il concetto che la risoluzione del corpo renderà la persona nuovamente completa tutta quanta dice Dante il chiasmo ai versi 40-42 e 49-51 rispetto a luminosità ardore visione e grazia avvolge e intensifica il senso di completezza che caratterizza la persona nuovamente ricostituita nella sua corporeità effettiva e che è associata all'aumento di beatitudine che deriva dal ritorno della carne gloriosa e santa e dell'unione dell'anima a essa come il sesto canto dell'inferno che aveva sottolineato tanto la durezza del dolore fisico delle anime all'inferno quanto l'aumento di quel dolore con il ritorno del corpo alla fine dei tempi così il quattordicesimo canto del paradiso sottolinea sia la pienezza della beatitudine celeste e dell'anima separata sia il suo aumento una volta che la persona si ricostituerà nella sua pienezza corporea con il ritorno della carne gloriosa e santa chiaramente l'opposizione adesso la vediamo e sarà l'ultima cosa veramente tecnica che vi dirò l'opposizione è tra la carne gloriosa e santa che permette la felicità completa e il corpo d'aria che l'anima si crea nell'aldilà che permette sì un'esperienza intensa ma non è perfetta anche in questo caso il testo dantesco propone un sincretismo originale tra i principi tomistici dell'unità della forma e quelli bonaventuriani della pluralità delle forme e ricordiamo che Tommaso e Bonaventura avevano appena parlato prima di Bonaventura e in questo modo vi farò vedere spero che Dante la commedia riesce a tenere insieme tanto il senso della pienezza della felicità goduta dell'anima di Beata quanto l'idea che con la risoluzione del corpo la visio dei aumenta di intensità quello che mi interessa anche è sempre la maniera in cui Dante volgarizza o poetigizza la filosofia quindi vedremo che le immagini che Dante utilizza per parlare del corpo risorto sono immagini che si rifanno alla pluralità delle forme e non all'identità quindi volevo leggervi questo passo che sostiene che mentre prima della risurrezione le fattezze dell'anima sono nascoste dal fulgore che la circonda poi saranno nuovamente visibili ma sì come Carbon che fiamma rende e per vivo candor quelle soverchia sì che per la sua pervenza si difende così questo folgor che già ne cerchia che ha vinto in apparenza dalla carne che tutto di la terra ricopercchia e qua Salomone si sta rifacendo a una dottrina teologica delle quattro doti che caratterizzeranno il corpo risorto impassibilitas agilitas subtilitas e claritas e in particolare si rifà alla claritas alla luminosità che caratterizzerà il corpo risorto e che Salomone sta dicendo la luminosità la claritas del corpo risorto sarà così intensa da superare la luminosità dell'anima ed è per questo che le fattezze del corpo risorto saranno visibili e invece non sono visibili quelle del corpo aereo e quello che mi interessa e che magari veramente vi risparmio tecnicamente è che è sempre stata Anna Maria a Chiavacci Leonardi a dimostrarlo in questa teoria delle doti del corpo risorto Dante esplicitamente si rifà a Bonaventura e non a Tommaso mentre secondo Bonaventura la claritas e le doti del corpo risorto dipendono dalla gloria dell'anima e parla di redondanzia glorie anime che si manifesta nel corpo secondo Bonaventura seguito da Dante è il corpo risorto stesso ad avere una sua luminosità intrinseca quindi in questo momento Dante che aveva seguito l'unità in tutta la commedia ritorna invece alla pluralità per presentare un senso di corporeità effettiva e concreta veniamo ai versi meravigliosi che seguono perché la reazione delle anime del paradiso alla reazione alle parole di Salomone è di esultanza e tripudio erano già stati contenti solamente all'idea di pensare alla resurrezione del corpo quando poi invece gli viene spiegato in che cosa chiaramente consiste cosa che chiaramente sapevano già allora reagiscono con gioia alla prospettiva di reagiscono con gioia alla prospettiva di riunirsi con il loro vero corpo quello che è rimasto in terra ed ora è un cadavere questa gioia all'idea di riunirsi con il loro corpo rivela l'intensità della nostalgia che continuano a provare per esso disio dei corpi morti e qua è la nostalgia il desiderio che rientra nel paradiso se in tutto il paradiso Dante ha continuato a dire la condizione è quella di pace di tutti i desideri appagati ecco non è vero qua c'è un desiderio che rientra e questo desiderio è nostalgia per la terra e per il proprio corpo tanto mi parver subiti accorti e l'uno e l'altro coro a dicere a me che ben mostrare disio dei corpi morti era chiarissimo che desideravano il loro corpo terreno forse e questi versi ci ritorneranno importantissimi forse non pur per loro ma per le mamme per le padri e per gli altri che forcari anziché fossero sempre terne fiamme quindi diversamente da molte altre parti del paradiso in cui le anime in cielo appaiono perfettamente felici e qualsiasi loro desiderio è continuamente appagato dalla loro visione beatifica qui la commedia mostra che in realtà i beati desiderano il ritorno del loro corpo le parole rima amme mamme fiamme esprimono il senso che solo con il recupero di quei corpi che ora sono morti le anime separate saranno nuovamente veri individui con una loro singolarità a sua volta fatta di relazioni e memoria e questo è il punto veramente su cui adesso voglio insistere è proprio l'idea della relazionalità delle gioie del paradiso veicolato dall'idea della risurrezione del corpo la gioia manifestata dalle anime all'idea di recuperare la carne gloriosa e santa non è solo legata all'aumento della loro visione di Dio ma esprime anche un senso di relazionalità e di affettività personale forse non pur per loro ma per le mamme per i padri e per gli altri che forcari anziché fossero sempiterne fiamme e poi ci ritornò bravissimamente è veramente molto interessante la parola mamme che era una parola che Dante aveva assolutamente bandito dal divulgare eloquenzia e che invece ritorna nella commedia in un modo di sincretismo di pluristilismo per cui all'interno di questo discorso teologico così preciso e così sofisticato troviamo la amme che è la forma volgare del latino ammen e una parola come mamme che esplicitamente Dante aveva cassato perché non abbastanza illustre e quindi possiamo veramente pensare con Auerbach che quello che sta facendo Dante in questo passo è quello di tornare al fermo umilis della Bibbia per cui all'interno di un'atmosfera generalmente alta e per esprimere dei concetti teologicamente sofisticati si fa ricorsa a un linguaggio concreto e basso come appunto quello della Bibbia quindi questo è un momento di sermo umilis e l'altro aspetto che mi ha fatto pensare molto che effettivamente spero anche per voi molto interessante è che il desiderio del corpo come relazione è qualche cosa di non teologico è uno di quei momenti in cui Dante che era stato così preciso teologicamente si allontana dalla teologia e inserisce nella dottrina della reazione del corpo qualcosa che invece ai teologi non interessava i teologi del tempo di Dante non prestavano attenzione a un'idea di socievolezza delle gioie del paradiso e si concentravano invece sul rapporto esclusivo dell'individuo con Dio e anche quei teologi come Buonaventura erano interessati e pensavano che ci fosse una specie di comunione nel paradiso insistevano che qualsiasi amicizia o affetto in paradiso non erano mai personali o esclusivo è caritas secondo i teologi l'amore del paradiso quindi un amore incondizionato per gli altri indipendentemente da chi sono da cui sono stati o da chi tu sei stato quindi Buonaventura ad esempio scrive che ogni beato è ugualmente legato a ogni altro beato e che al momento della risurrezione del corpo ognuno si rallegrerà della felicità di tutti gli altri quanto della propria anzi scrive Buonaventura Pietro si rallegrerà della felicità di Lino ancora più dello stesso Lino il testo dantesco condivide con Buonaventura il concetto che i beati gioiscono all'idea che la risurrezione del corpo riguarderà anche gli altri ma esprime un affetto più intimo e personale di quello indicato da Buonaventura non si tratta infatti tanto del gioire di Pietro per la gloria di Lino o di chiunque altro ma del gioire di ogni individuo all'idea che anche i propri cari recupereranno il loro proprio corpo e godranno quindi di una beatitudine più intensa ma il concetto il testo dantesco sembra esprimere anche qualcos'altro e volevo leggere con voi un passo di un poeta milanese della fine del 200 inizio del 300 Bonvesin dalla riva che scrive intorno agli anni 10 del 13esimo secolo è famoso per il libro delle tre scritture scrive diverse cose in milanese antico e volevo leggere un passo di un poema del dei diei judici un passo sul poema del giudizio universale in cui Bonvesin che non ha la sofisticatezza di Dante è un umile predicatore che scrive per la gente per il popolo comune sulle piazze appunto nel suo milanese orale mi interessa perché questo passo dà un'idea di come la risurrezione del corpo manteneva nella cultura popolare una dimensione relazionale che invece mancava nei teologi ed è e Bonvesin immagina il momento della risurrezione del corpo proprio come l'opportunità che le persone risorte avevano di abbracciare abbrassare in antico milanese i propri cari quindi ve lo leggo i andaran con criste in l'eternal de porto staran in dobbia gloria in anima e in corpo oide con quelle savio che sta per tenta corto lo bonfio col bon padre e li bon compagnon cousine seror fraei ken stai fegi baron tuj san consons insema e la regal mason e tuj si abbrassarán per gran di lezione quindi mi interessa l'idea di tutti che si abbracceranno con grandissima gioia quindi il passo del paradiso che associa il desiderio delle anime per i loro corpi con l'affetto per i propri cari non solo conferma che la dottrina della risoluzione del corpo era vissuta a livello personale come una vittoria contro la morte e la perdita ma indica anche che la materialità del corpo la sua carnalità la carne gloriosa e santa contiene un irriducibile legame con il passato quindi vorrei a questo punto riflettere brevemente sul legame che questi versi instaurano tra la materialità del corpo l'individualità e la memoria come parti fondamentali dell'esperienza del paradiso e quindi dell'antropologia dantesca e a questo punto faccio un volo pindarico e passo per cercare di capire che cos'è la risoluzione del corpo per Dante a un romanzo di Elsa Morante che è Araceli scritto nel 1982 e l'ultimo romanzo secondo me geniale di una scrittrice geniale e scritto appunto nel 1982 dove a un certo punto si parla della risoluzione della carne è un romanzo complesso e complicato su quale ho scritto tanto insieme a Sara Fortuna una filosofa del linguaggio e in cui anche me ne sono occupato tanto nel mio ultimo libro in questa sede non mi posso dilungare ma vorrei ricordare che mentre in un romanzo che quasi sicuramente avete letto uno dei suoi più famosi L'Isola d'Arturo Morante parla della risoluzione in maniera sorprendentemente simile a come la descrive Bonvesin nel suo poema sul giorno del giudizio in Araceli che è il romanzo che mi interessa la scrittrice va più in profondità nello scandagliare il concetto di risoluzione della carne e leggerò con voi ora un brano in cui il protagonista spiega che il suo viaggio in Spagna alla ricerca della madre morta Araceli che è dal nome al romanzo è stato messo in moto da raffiorare nella memoria del corpo di sensazioni fisiche condivise e dimenticate con la madre il viaggio del protagonista in Spagna è tanto geografico nel dirigersi verso la terra della madre appunto quanto archeologico nello svelare gli strati interiori del passato e il motivo della risurrezione cambia di segno dal futuro si trasforma nel passato si inverte nel passato io avevo chiamato questo capitolo ritrovarsi all'inverso la risurrezione del corpo secondo Marante cambia di segno e dal futuro ritorna al passato e si trasforma nel tentativo di recuperare nel corpo le sensazioni condivise e riviverle nella loro pienezza fisica quindi provate a fare questo salto con me è il passo in cui il protagonista parla del perché è andato alla ricerca della madre morta la tentazione del viaggio mi aveva recentemente invaso recentemente con la voce stessa di mia madre non è stata una trascrizione astratta